ciao io sono morena e vi do il benvenuto sul mio canale oggi volevo parlare di relazioni questo è un video assolutamente copiato spolatamente dal video che ho visto nel canale di shanti ovvero cosa ho imparato cosa ha imparato lei in 15 anni di relazione perché volevo fare un attimo un discorso su quello che effettivamente ho capito io delle relazioni anche se non sono la persona migliore del mondo per parlarne perché appunto io ho la mia attuale relazione che è anche l'unica relazione che io abbia mai avuto l'unica relazione seria almeno perché se no vabbè ho avuto un'infatuazione io per un'altra persona però c'è una relazione seria stabile o comunque una vera frequentazione non l'ho mai avuta prima del mio attuale fidanzato partendo dal fatto che io sono demisessuale quindi mi innamoro seriamente provo attrazione sessuale soprattutto solo dopo una conoscenza abbastanza approfondita della persona per me è abbastanza inconcepibile andare da qualcun altro cioè uscire con persone quasi sconosciute in un senso romantico cioè nel senso uscirci insieme in primo appuntamento queste cose qui perché cioè per me non avrebbe senso sarebbe come un conoscersi sì ci prendiamo un caffè per conoscerci ma cioè di base non ci sarebbe niente da parte mia e quindi io non lo vivrei mai come un primo appuntamento e infatti io non ne ho mai avuto uno quello che ho vissuto io strettamente riguardo le relazioni e da cui ho imparato molto è il fatto che le relazioni tossiche non fanno altro che danneggiarci perché ci costringono a diventare una persona che noi in realtà non siamo ci costringono a farci sentire inferiori a non farci sentire abbastanza per qualcosa per qualcuno quando di base noi siamo già abbastanza per noi stessi io davvero per anni mi sono sforzata di essere una persona che non ero affatto cercando di compiacere altre persone per cercare sostanzialmente di tenerle vicino a me di continuare a coltivare un determinato rapporto per essere degna di loro ecco però davvero non ne vale la pena non ne vale la pena perché in primis non ha senso né per noi né per loro perché se noi non andiamo bene a loro c'è nemmeno loro in realtà vanno bene per noi perché è inutile fingere di non desiderare attenzioni o invece di desiderarne al contrario perché non la persona che abbiamo davanti non soddisferà mai i nostri bisogni e per cui saremo sempre infelici quindi perché davvero rovinarci l'esistenza dietro a qualche persona per cosa poi cioè per cosa davvero soltanto per avere qualcuno accanto a noi ma qualcuno di così tossico non ha davvero senso e mi dispiace che ci siano tante persone che purtroppo subiscono queste relazioni per tanto tempo perché hanno bisogno di avere qualcuno accanto so che cosa significa so cosa significa sentirsi soli so cosa significa aggrapparsi aggrapparsi è l'unica speranza che si crede di avere ma la verità è che ci sono tantissime speranze cioè c'è un mondo lì fuori e ci sono davvero tantissime persone che voi potete effettivamente incontrare che saranno molto più compatibili con voi questo non significa che l'altra persona sia per forza una persona orribile o che voi siate delle persone orribili semplicemente non vi trovate non avete gli stessi non avete una compatibilità non avete gli stessi valori gli stessi bisogni non riuscite a compensarvi e non c'è niente di sbagliato in questo semplicemente bisogna rendersene conto e allontanarsi da queste persone prima che ci facciano effettivamente troppo male shanty nel video parlava anche di trucchetti che si fanno tendenzialmente quindi che non so magari mettere il like su instagram arrabbiarsi se l'altro mette like a un'altra persona però non dirglielo per non sembrare troppo esagerati o che cavolo ne so se si sa che a lui piace il verde vestirsi solo di verde se gli piace lo sportivo vestirsi solo sportivi anche se in realtà non è il nostro stile o non rispondere subito al messaggio perché poi altrimenti ci si sente troppo oppressivi e magari l'altra persona non piace ecco io queste cose qua fortunatamente non le ho mai avute non le ho mai messe in pratica nel senso che io sono una persona veramente che parla abbastanza dei propri bisogni e tendenzialmente ho sempre detto che cosa provavo che cosa non provavo invece e trovo che queste cose siano inutili perché proprio rallenta la conoscenza e ci fa sprecare tantissimo tempo con una persona che magari non non ci aiuterebbe mai e non ci renderebbe mai felici proprio perché li comunichiamo dei bisogni che noi realmente non abbiamo e invece non comunicandogli quelli che noi abbiamo ci vengono naturalmente a mancare perché le persone non ci possono leggere nel pensiero naturalmente per esempio io sono una persona che ha bisogno di tantissime attenzioni di tantissime carinerie di tantissime coccole di tanto affetto di tanta presenza poi questo non significa che se tu stai lavorando hai un impegno io impazzisco devi scrivermi per forza assolutamente no però cioè io non ce la faccio sentire il mio finanziato tipo una volta alla settimana a mandarci tre messaggi ho bisogno di sentirlo quotidianamente di avere il suo buongiorno e avere la sua buonanotte quindi avere una persona con cui non riuscirei ad avere questo tipo di relazioni perché magari per quest'altra persona sarebbe troppo pressante mi farebbe stare male non avrebbe senso non dirlo fingere che non mi interessi fingere di essere l'alternativa la ragazza alternativa che lei non ha sentimenti la religione di ghiaccio che cioè lei non frega niente di nessuno non ha senso fingere queste cose non ha senso davvero infortunatamente poi con il mio ragazzo tutte queste cose qua tutti i miei bisogni in questo senso vengono veramente molto soddisfatti poi il nostro rapporto ne ha davvero super giovato secondo me dal fatto che noi eravamo amici prima siamo stati amici per qualche anno e quindi ci siamo conosciuti davvero molto profonditamente prima cioè io sapevo già come era fatto sapevo già le sue abitudini sapevo già che mi faceva ridere che il nostro senso dell'umorismo era molto simile sapevo i suoi valori suoi pensieri che naturalmente nel corso del tempo sono cambiati e siamo ci siamo aiutati siamo cresciuti abbiamo cambiato le nostre idee però generalmente cioè nel senso non era una persona che mi mancava di rispetto che pensava che le donne dovessero stare in cucina o che dovessero per forza essere madri o che ne so sapevo già dove era indirizzato lui sapeva dove ero indirizzata io e quindi questo secondo me ci ha aiutato molto quando poi ci siamo fidanzati sì c'è stato un inizio di infatuazione che tipo c'eravo sempre in testa tanti cuoricini eccetera quello c'è sempre in ogni tipo di relazione chiaramente il momento passionale che c'è all'inizio c'è sempre e ce l'abbiamo avuto anche noi senza dubbio ma diciamo che quando è passato non è stata così una sorpresa semplicemente ci siamo tipo stabilizzati e siamo quello che siamo sempre stati sapevamo già che cosa ci si trovava dopo capito eravamo già molto uniti molto compatibili cioè noi già da amici pensavamo quando saremmo stati vecchi e che ci saremmo trovati sulle panchini del paese a parlare male degli altri degli altri vecchi che passavano e dei giovani che c'erano le avremmo detto ma sti giovani non capiscono niente e io gli avrei ricordato di prendere le pastigliette cioè questi discorsi facciamo già da amici capito quindi secondo me finanzarsi con una persona che già si conosce e con cui comunque abbiamo già condiviso tanto secondo me è molto importante perché appunto sappiamo già che cosa verrà dopo sappiamo già che abbiamo davanti perché l'abbiamo visto con gli occhi lucidi da persona non innamorata tra l'altro lui cioè nel senso mi pensava bella e noi quando ci vedevamo cioè le prime volte che ci siamo visti che veniva giù da me facciamo le passeggiate cioè io andavo con la tuta vecchia macchiata di candeggina con le macchie bianche i felponi brutti macchiati perché dicevo vabbè tanto che se ne frega ad andare a fare una passeggiata non mi vede nessuno infatti lui me lo dice sempre prendiamo sempre su questa cosa che appunto io mi presentavo in maniera indecente cioè nel senso lui mi ha visto bella così per cui cioè onestamente se una persona vi vede bella e vi stima e vi vuole bene vi vuole bene anche se andate con la tuta macchiata di candeggina non soltanto se andate con il vestito rosso con le paillettes che vi regala un fisico meraviglioso ecco un'altra cosa che secondo me giova tantissimo nelle relazioni e non soltanto nella relazione amorosa è proprio la comunicazione sono una persona abbastanza brava a comunicare in realtà tendo veramente dire quando c'è qualcosa che non va quando sento che c'è qualcosa che non va soprattutto se sono persona qui io tengo davvero con ervin ho sempre parlato di tutto di tutto qualsiasi cosa non gli ho mai nascosto niente l'unica cosa che gli ho nascosto è stato quando sono andata a una festa dopo lavoro sono andata a una festa dopo lavoro non glielo ho detto non mi ricordo neanche più perché onestamente so che non glielo avevo detto lui è venuto a scoprirlo perché qualcuno aveva messo una foto su instagram e mi ha chiamato cioè no non mi ha chiamato mi ha mandato un messaggio tipo sei una festa sei una stronza perché non me l'hai detto e la mia reazione è tipo stata piangere disperata tipo no voglio tornare a casa voglio tornare a casa ma cioè non perché lui mi avesse controllato o mi avesse detto torna a casa ma proprio il fatto che io gli avessi nascosto qualcosa mi faceva sentire davvero male mi faceva sentire una persona che non volevo essere assolutamente quindi cioè avevo completamente rovinato il mio umore e non mi andava davvero di continuare a stare alla festa perché cioè lui ok si era arrabbiato ma allora che mi aveva detto torna a casa dove stai andando senza il mio controllo no assolutamente no non è quel tipo di persona per fortuna io disperata piangendo mi sento una persona orribile che chi chiama per farmi consolare ervin ce lo chiamo gli faccio scusa ho bisogno di sentire la tua voce mi dispiace tantissimo sono una stronza ti prego mi perdoni cioè sei l'unica persona che volevo sentire in questo momento che sto così male eccetera eccetera quindi lui era tipo intenerito dalla cosa però era ancora incazzato nero con me quindi non sapevo bene come reagire poverino però sì quella è stata veramente l'unica volta in cui io gli ho nascosto qualcosa per il resto io non saprei questo è quello che ho capito nel nel mio percorso ditemi voi che cosa ne pensate ditemi voi cosa avete imparato dalle vostre relazioni se ne avete avute o che cosa vi aspettate invece dalla vostra futura relazione sempre se ne volete una e in generale come vi comportate con le persone come pensate che sia giusto comportarvi con gli altri cosa ritenete sano in una relazione cosa ritenete non sano perché in realtà anche questa è una linea un po sottile penso ad esempio ted e robin che volevano stare insieme però ted voleva mettere su famiglia robin voleva fare carriera e tipo per loro la relazione non sarebbe stata sana perché non avrebbe veramente portato niente di buono di base perché entrambi i loro bisogni non sarebbero stati soddisfatti o solo uno solo uno sarebbe stato soddisfatto e l'altro no quindi tecnicamente non sarebbe sana però magari ci sono persone che in realtà ci provano ci vogliono provare non lo so voglio concludere questo video davvero ditemi voi che cosa ne pensate al riguardo vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video ciao grazie a tutti